Sono un ex pilota dell'Alitalia che faceva da istruttore e un allievo che era al comando. Le vittime dell'incidente aereo occorso stamattina a un aereo da turismo CESNA 150, precipitato e incendiatosi in un bosco in provincia di Verona. L'allievo, la cloche, si chiamava Lino Lavarini, 61 anni, mentre l'ex pilota istruttore era Prospero Antonini, di 69 anni. Il velivolo era partito per un volo di istruzione dall'aereoclub di Boscomantico. Il velivolo è precipitato all'interno della tenuta novare e ha preso fuoco nel momento dell'impatto a terra. È da accertare quindi se gli occupanti siano deceduti a causa della violenza dello schianto o a causa dell'incendio. L'impatto è avvenuto in un bosco all'interno della tenuta di proprietà di una nota azienda vinicola della Valpolicella.